I don't know what, and I can't wait to see again Ciao, buon bel bel cerchiato, qui è Gilles di Corner Sandoriana ragazzi, nuova ambientazione provvisoria dove ancora studiamo bene a una casa nuova, dove riprendere, dove fare i video è un dilemma, è un dilemma ragazzi cosa è importantissima ragazzi, importantissima spalancate bene le orecchie perché, la vedete, la vedete maglietta ufficiale, originale di Corner Sandoriano e, ascoltate bene ragazzi, chiunque di voi può vincerla perché inizia ufficialmente il Fanta Corner Sandoriano non vi spaventate ragazzi, che cos'è il Fanta Corner Sandoriano? è molto più semplice di quello che sembra ragazzi è un fantacalcio organizzato da me e i ragazzi di Corner Sandoriano in cui ci sarà appunto io più 9 di voi che verranno scelti casualmente l'unico modo per iscriversi è gratuito, ovviamente è seguirci su Instagram, YouTube, Twitch scrivermi in privato su Instagram ci sarà qua sotto in descrizione il link del mio profilo e appunto si farà un fantacalcio 38 giornate quindi prima dell'inizio della prima giornata perché l'asta ci sarà il 3 di agosto ragazzi è un mercoledì, mercoledì 3 agosto importantissimo perché ragazzi io lavoro un botto quindi adesso sto registrando questo video in tempo e stiamo organizzando le cose nel migliore dei modi perché sono i feri perché sennò sarebbe avuto veramente complicato anche per me però appunto l'asta si fa il mercoledì 3 di agosto segnatelo perché è importantissimo ragazzi gratuito ma chi vince si porta questa naturalmente non succede ma se dovessi vincere io il secondo classificato porta a casa questa questa o comunque una maglietta di Corner Sandoriano che c'è nello store a vostra scelta a scelta logicamente del vincitore ecco è molto semplice mille crediti un'asta di reparazione l'ultima di prima del insomma quando finisce il calcio a mercato con gli crediti che sono rimasti se ne aggiungono 100 si fa una piccola asta di reparazione e poi si fa l'asta di reparazione a fine gennaio qui in calcio a mercato invernale niente scambi niente cambi ai giocatori quindi se si infortuni a qualcuno ragazzi mi dispiace è importantissimo quindi scegliere giocatori titolari o perlomeno che abbiano una buona possibilità di giocare però ragazzi ho provato a farlo con alcuni di voi l'anno scorso ci sono stati alcuni intoppi quest'anno farò in modo che non ci siano creiamo un gruppo whatsapp in cui tutti prima della partita dovranno mandare gli stream della squadra così o meno prima di inserirla ufficialmente nell'app Lega e Fanta Calcio verranno messi voi dovrete mettere logicamente però appunto almeno sappiamo che nessuno può cambiare non ci sono cose strane né niente perché anche io ero un po' inesperto che l'anno scorso ci sono stati un paio di intoppi un po' particolari e almeno così si evitano quelle con espressione anche perché ragazzi è una cosa che si fa per divertirsi è una cosa gratuita ah scusate non ho detto minimo 18 anni ragazzi l'unica cosa perché comunque essendo una cosa non di gioco d'azzardo ma quasi insomma vogliamo evitare grane quindi dai 18 in su seguirci su Instagram Facebook scusate Instagram Youtube Twitch e basta e divertirsi iscrivetevi in privato io farò poi una selezione casuale di 9 di voi che parteciperanno con me al Fanta Corner Sampdoriano chi vince si porta a casa questi mi raccomando fate numerosi perché ci sarà di divertirsi iscrivetevi al canale Twitter ciao popolo ricerchiato ciao ciao ciao